La pelle è l'organo più esteso che noi abbiamo, quanto incide sulla psiche? Direi che incide al 100% ma sono un intreccio psiche cute e questo intreccio abbiamo modo di verificarlo tutti perché tutti noi nella vita siamo arrossiti o impalliditi davanti a un'emozione, quindi è qualcosa di semplice capire il legame psiche e cute e poi un legame biologico perché nascono dallo stesso foglietto embrionale e comunicano tutta la vita attraverso un sistema meraviglioso che è il sistema psico-neuro-immuno-endocrino, cioè ci sono dei neuromediatori delle sostanze che mettono in comunicazione questi due organi continuamente. Quindi prendersi cura della pelle significa prendersi cura della propria salute to cure? Esatto, prendersi cura della propria pelle significa anche prendersi cura della propria mente e viceversa.